Ciao ragazzi e benvenuti in questo quarto episodio della serie in cui impareremo a realizzare siti web. In questo episodio vi spiego come dare un po' di stile ai paragrafi. Per prima cosa andiamo su Google Chrome e cerchiamo Lorem Ipsum. Apriamo il primo risultato e copiamo il primo paragrafo. Questo solo per avere un testo abbastanza grande per dare gli stili che adesso andremo a vedere. Quindi possiamo tornare su Visual Studio Code, possiamo anche eliminare tutti questi tag. Lasciamo solo questo paragrafo e andiamo a incollare il testo che abbiamo appena copiato. Ok. Ci verrà incollato tutto così, se premiamo Shift, Alt ed F sulla tastiera vedete che ce l'ho formatta. Beh diciamo di voler evidenziare una parte di testo in grassetto. Per farlo basta semplicemente aprire il tag strong e chiuderlo dove noi vogliamo che finisca la parte in grassetto. Nel nostro caso mettiamo come esempio la prima riga. Quindi tutto ciò che sarà compreso tra i nostri due tag di apertura e di chiusura strong diventerà in grassetto. Se infatti torniamo sul nostro browser e aggiorniamo la pagina, vedete che il primo paragrafo è diventato in grassetto. Ed è tutto ciò che è stato incluso tra il tag strong. E se invece volessimo farlo diventare in corsivo, nulla di più semplice. Basterà infatti racchiudere la parte di testo tra i tag e M. Quindi cancelliamo strong, scriviamo E M. Se siamo su Visual Studio Code e avete installato l'estensione auto tag rename, ve lo auto rinominerà. Nel caso contrario lo andate a scrivere voi a mano. Se salviamo e torniamo sul nostro browser, ricaricando la pagina vediamo che la scritta è adesso in corsivo. Un'altra cosa fondamentale di ogni linguaggio di programmazione sono i commenti. Per chi non lo sapesse sono delle parti di codice che vengono ignorate e servono ai programmatori per prendere appunti nel codice. O magari spiegare ad un altro membro del team che lavora con il nostro codice a cosa servono certe variabili o spiegare certe meccaniche. La sintesi è particolare anche perché HTML non è un vero e proprio linguaggio di programmazione. Se siete abituati infatti al C Sharp, C++ o JavaScript è normale pensare che i commenti si scrivano con le doppie barre o slash. Invece in HTML bisogna aprire un tag che è questo qui, quindi parentesi angolare di apertura, punto esclamativo, trattino, trattino. Vedete che qua Visual Studio Code ce lo chiude in automatico, quindi per chiuderlo basta semplicemente scrivere trattino, trattino e parentesi angolari di chiusura. All'interno possiamo scrivere il nostro commento, ad esempio scriviamo questo è un commento che non apparirà sul nostro sito e quindi poi successivamente andiamo a chiudere il tag. Se salviamo e torniamo sul nostro browser, aggiornando la pagina non cambia assolutamente nulla. Questo perché come vi ho detto il commento viene ignorato, perché appunto i commenti servono solo a noi programmatori per scrivere appunti di ogni tipo nel nostro codice. Facciamo un altro esempio, diciamo che ci scordiamo facilmente il funzionamento del tag strong che abbiamo appena visto. Quindi possiamo scrivere un commento, quindi lo apriamo, in automatico si chiude e qui all'interno scriviamo un commento in cui spieghiamo che il tag strong trasforma un testo in grassetto. Quindi scrivo il tag strong serve per trasformare una parte di testo in grassetto. Così se in un futuro torniamo a vedere il nostro codice, grazie al commento ci ricordiamo il funzionamento del tag strong. Tornando ai tuoi tag che abbiamo visto in questo episodio, possiamo anche combinarli. Quindi possiamo rendere un testo allo stesso tempo in grassetto ed in corsivo. Quindi dopo il tag em, apriamo anche il tag strong e lo andiamo a chiudere prima della chiusura del tag em. Quindi salvando e tornando sul browser, se ricarichiamo la pagina vediamo che il nostro testo è sia in corsivo che in grassetto. Possiamo fare anche di più, possiamo semplicemente rendere una parte di testo in grassetto e il resto in corsivo. Quindi supponiamo che vogliamo rendere in grassetto solo la scritta lorem ipsum, quindi andiamo ad aprire il tag strong e lo chiudiamo subito dopo la scritta lorem ipsum, in questo modo. Se salviamo e torniamo sul browser, vediamo che lorem ipsum è in corsivo e in grassetto, mentre il resto del testo è solo in corsivo. Ok, ricapitolando cosa abbiamo imparato in questa breve puntata, abbiamo prima visto il tag strong, che lo spiega questo commento qui. Quindi il tag strong serve per trasformare una parte di testo in grassetto. Ovviamente questa parte di testo deve essere inclusa tra il tag di apertura strong e il tag di chiusura strong. E allo stesso modo abbiamo visto il tag em, che invece ci consente di trasformare un testo in corsivo. Infine abbiamo imparato a scrivere dei commenti nel nostro codice html. Per scrivere un commento basta semplicemente aprirlo con la parentesi angolare di apertura, punto esclamativo e due trattini. E per chiuderlo solo due trattini e la parentesi angolare di chiusura. Bene, se questo video vi è piaciuto lasciate un like per supportare il video con l'algoritmo di YouTube e noi ci vediamo al prossimo video.